alla frisella ma non sai la frisella? un frigorifero noi facciamo un programma adesso la pizza no era me tu ti spettano un po' un po' e la segi è qui qui stai qua, io stai 10 ore non c'erano anche di chi 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 non c'erano ma non c'erano ma non c'erano ma che c'erano? sto guardando la signorina sotto il basso dove fanno il signorino sotto il basso? stanno giocando a scopi fondamenta però sotto sotto metto tutto questo sapo questo è quello non c'erano aspetta lui allora il tab è occupato della tua offizia non c'erano guardate ora guardate non c'erano ha detto il servinario è rotto servinario è rotto non ci tacche tutto napolina il 23 agosto è tutta la salaria non sa mai di chi darri sono nascita napoli non sa mai di chi darri sono nascita ma non sa mai di chi darri sono nascita ma questo è forte non sa mai di chi darri sono nascita e allora chi ci sta che non mi sa che sono nascita io vi ho detto che ieri l'ultimo io ho detto che il mannale il marzo che è il titolo del mondo un po' di nuovo e non è un po' di nuovo anche a te per favore abbiamo un po' di più ieri e' un po' di più un po' anche e' un po' c'è troppo nelle cinque oggi è la mia forte la rosa la parola vengo io faccio il trattamento rai la parola vediamo per provare a terra il l'applico rai la tua parola c'è un po' dire che cosa la propria trip la parola parola potrebbe il pietro mani pietro freddo o ho fatto il primo paolo la città la città che è il suo lavoro l'uomo la città che cosa è che non è vero 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 l'aurore per un altro ma non è un bel motivo per la parola nuova parola per l'arrivo a dare 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 a un'altra il nuovo lavoro so oh ho ho all ok e e il porto a me non i i i i i i i i quando i euro euro no ora non quando la sua non ma racconta Compa alla mia Smarties Alla mia Smarties Naaaaaaaaa Vai Cosau?